Stiamo attuando l'estrazione pro pulce, pulce gioca, annusa e afferra, non afferra, ecco qua, ha scelto questo, Nella C, quindi Nella avrà lo scialle ai ferri abbinato alla borsa, adesso facciamo una nuova estrazione per il coprispalle cristallo, che è rimasto non assegnato, ecco, secondo estratto, Andreina, Andreina avrà il coprispalle grigio con il fiore in tessuto, ecco, noi a questo punto non possiamo far altro che ringraziarvi, vi ringrazio anche pulce per tutto l'affetto che ci avete dimostrato e naturalmente ci vedremo di nuovo sul blog e su youtube, e sulle novità, arrivederci!